Musica Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà Oggi Palermo Regina alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera Iachini dovrebbe andare in capo questa formazione in porta Sorrentino Difesa a tre con Andelkovic terzi e probabilmente Vitiello Non c'è Mugnoz A centrocampo dovrebbe recuperare Maresca Che giocherà assieme a Barreto e Bolzoni Sulla destra Stevanovic e sulla sinistra Lazare In avanti probabile il tandem formato da Dybala e Lafferty Beppe Iachini non vuole nessun record Mira solo la promozione Sentiamola allora in conferenza stampa Qui non c'è nessuno che ha la pancia piena Guai se fosse così Noi dobbiamo sempre andare alla ricerca di continui conoscenze Continui miglioramenti Continua ricerca di Innanzitutto del primo obiettivo Quello di voler arrivare prima possibile A raggiungere una quota matematica di promozione Che ancora non c'è Dobbiamo comunque rispettare i nostri avversari Li dobbiamo rispettare Ma anche in virtù di quello che è la loro storia recente Perché la Regina è una squadra che ha giocatori di qualità È una squadra che fuori casa Ha avuto qualche difficoltà in casa Ma che fuori casa ha sempre creato situazioni di grande pericolo agli avversari Giorgio Perinetti Rettonsabio dell'area tecnica del Palermo Ha parlato del momento attuale del Rosanero E del bisogno di lanciare nuovi giovani Il Palermo è laddove tutti speravamo potesse essere ad inizio stagione Dovremmo dare più valore ai nostri giovani italiani Prodotti del vivaio e dei settori giovanili Invece ci crediamo ancora poco Potremmo fare molto di più Gennaro Gattuso Ex allenatore del Palermo Intervenuto durante una trasmissione Ha avuto modo di parlare dell'andamento del Rosanero Il merito è di Iachini Ha detto riguardo alla prima posizione in classifica Conquistata dalla sua ex squadra Riguarda Zamparini invece Solo una battuta Quando diceva che sarei rimasto a lungo Mi giravo e mi toccavo Milan Milanovic esprime un giudizio Sui contenuti del campionato cadetto E dice La B è molto difficile Ci avevo già giocato Se messi con il Vicenza In questo campionato non c'è molta qualità Si corre però tantissimo Ci sono diverse squadre Che si chiudono E provano a colpire in contropiede Bisogna stare concentrati 95 minuti su 95 Per tutte le altre notizie Stadinos.it Autore dei sottotitoli.icolo